Se fai dropshipping e sei alla ricerca costante di prodotti vincenti da vendere per svoltare con il tuo business di dropshipping su Shopify, allora devi assolutamente utilizzare questo software eccezionale. Ti do ufficialmente il benvenuto al video di presentazione di Scrapwave, ovvero lo strumento numero uno in assoluto per quanto riguarda i prodotti vincenti. Adesso andremo ad approfondire ovviamente questo strumento eccezionale, ma prima di tutto assicurati di iscriverti al canale adesso, mettere mi piace, attivare la campanellina, commentare se hai domande relative a qualsiasi cosa, ovviamente dropshipping, e-commerce, social media marketing, fallo adesso, mi raccomando, e iscriviti su opensourcebusiness.it. Ma andiamo subito su Scrapwave, perché è fondamentale per il tuo business di dropshipping? Prima di tutto perché a differenza di tutti gli altri tools di ricerca prodotti, questo qui, signore e signore, non sfrutta la ricerca delle ads, ovvero non va a vedere i winning products rispettivamente alle pubblicità che fanno, ma bensì tramite intelligenza artificiale riesce a capire esattamente quali prodotti stanno vendendo di più. Andando ad analizzare oltre 40.000 prodotti ogni giorno, l'intelligenza artificiale calcola attraverso l'Express, Amazon, Ebay. Ovviamente adesso vi faccio vedere dentro com'è all'inizio, ci sarà solamente l'Express e Amazon che sono comunque i principali, ma successivamente andranno ad aggiungere anche Ebay, Alibaba, eccetera. Comunque, tu puoi tranquillamente accedere gratuitamente con il tuo account, puoi creare il tuo account gratis e avere addirittura due prodotti gratuiti vincenti al giorno. Quindi ogni giorno, senza dover pagare un centesimo, puoi avere il tuo prodotto, anzi i tuoi prodotti vincenti, due al giorno abbiamo detto, con il tuo account gratis. Per attivare il tuo account gratis, semplicemente clicca il link che trovi qui sotto in descrizione, oltre al link Shopify, del mio sito web, troverai anche il sito di link di Scrapwave, che semplicemente ti permetterà di creare il tuo account gratuitamente e potrai già iniziare a scoprire i prodotti vincenti che stanno vendendo adesso attraverso appunto i più grandi marketplace mondiali, Aliexpress e Amazon. Quindi qui ci troviamo all'interno del nostro account. Ovviamente io ho la modalità più avanzata, che adesso vi faccio vedere subito di quanto stiamo parlando. Oltre al piano gratuito, ovviamente, c'è il piano starter, 29€ al mese, che annualmente diventano 23€, se pagate annualmente tutto l'anno per intero. Altrimenti, 29€ al mese o 79€ al mese per la modalità massima dell'intelligenza artificiale. Quindi, a voi la scelta, comunque potete tranquillamente provare e poi decidere. 63€ invece al mese se prendete l'abbonamento annuale. Quindi, ragazzi, non fate le cose a caso. Qui avete tutte le informazioni, potete comunque farmi domande, chiedere quello che volete. Ma adesso andrò a spiegarvi esattamente perché questo strumento è fondamentale per il vostro business di dropshipping, e-commerce in generale. E perché dovete sfruttarlo adesso. Quindi, come puoi vedere, i prodotti sono consigliati attraverso l'intelligenza artificiale. Questo significa che un algoritmo andrà a spiare, a calcolare tutte le vendite del marketplace di riferimento. Qui ci troviamo all'interno. Aliexpress, in questo caso, c'è Amazon anche. Come puoi vedere, da Aliexpress ci trova addirittura più di 1.700.000 prodotti. Qui possiamo, ovviamente, selezionare la categoria di riferimento, per esempio, animali. Possiamo ricercare in base al prezzo. Per esempio, minimo 10, massimo 20. Ok. Rating almeno 4,5. Fondamentale per quanto riguarda, ovviamente, le recensioni. Il numero di recensioni. Direi almeno 500. Vi faccio vedere esattamente come vanno ricercati i prodotti vincenti, ragazzi. Quindi questo è anche un tutorial per la ricerca dei prodotti vincenti. E qui, ovviamente, li possiamo ordinare tramite best seller, quindi più venduti. Quindi qua, automaticamente, ragazzi, tutto il lavoro di ricerca prodotto viene fatto, svolto dall'intelligenza artificiale, taglia. Quindi, come puoi vedere, tutto il lavoro che va fatto di ricerca prodotto, che per chi ha un minimo di esperienza con il dropshipping, sa bene che la ricerca prodotto è l'aspetto più importante, direi. Oltre al marketing, eccetera, ma avere il prodotto che vende, il prodotto vincente che vende, ragazzi, è fondamentale. Perché è da lì che si basa tutto il processo di vendita. Infatti, prima dovete vendere qualcosa che sta vendendo adesso e che la gente vuole. E poi iniziate a fare il marketing più figo, la pagina prodotto più figa, le immagini più fighe, il video più figo per aumentare il marketing, quindi il livello del marketing, quindi aumentare la percezione di valore e poter incrementare il prezzo veramente di almeno tre volte. Questa è la regola fondamentale anche del dropshipping per rientrare dei costi e tutto quanto, almeno tre volte il prezzo che ovviamente trovate dal fornitore. Poi, questa ovviamente è una tecnica, diciamo anzi questo è il software, per trovare il prodotto vincente. Poi, una volta che avete il prodotto vincente, potete contattare il vostro dropshipping agent che vi troverà il prodotto almeno il 25, 30, anche il 50% o meno del prezzo di listino che trovate qua sull'Express, in quanto i dropshipping agent, come vi insegno io, ragazzi, sono più affidabili, oltre che più economici. Quindi, dovete assolutamente trovare il fornitore ideale per il vostro prodotto in dropshipping. Qui sono diversi prodotti, questa è la cuccia, questo è Super Winning. Ma andiamo più nello specifico adesso e andiamo a vedere le statistiche che ci propone, ovviamente, Scrap Wave per ogni singolo prodotto. Andiamo, andiamo, clicchiamo qui. Questa è una fontanella per gatti, praticamente. Qui ovviamente abbiamo il link al prodotto di Aliexpress. Ok, con il video. Questo non è male. Decisamente non è male. Torniamo indietro, vediamo le statistiche che ci interessano a noi, ovvero il vantaggio competitivo che ci offre questo software. Questo è il grado, il livello qualitativo del prodotto. In questo caso è addirittura 99, è altissimo, quindi significa che questo è veramente winning. E ti fa vedere anche le vendite e le recensioni, gli ultimi 30 giorni, 7 giorni e oggi. E come puoi vedere, le vendite sono in salita. Stanno salendo da 30 giorni a 7 giorni a oggi, stanno salendo. Questo è un ottimo indice che ci dà Scrap Wave per capire esattamente che cosa sta succedendo a questo prodotto. Quindi quanto sta vendendo realmente da Aliexpress. E quanto la gente lo desidera, lo sta comprando. Quindi ordini, come puoi vedere, in salita costante. Questo è un winning, decisamente. Recensioni anche, quindi sono ordini veri. E qui ovviamente lo stock. Il restock che fa ovviamente il fornitore, ma a noi questo non ci interessa perché possiamo utilizzare anche un fornitore esterno o alternativo. Quello che ci interessa a noi unicamente è il Sales Performance. Quindi degli ultimi 30 giorni in questo caso, altissimo valore. Di solito è appunto da 0 a 10. Quindi figuratevi quanto è oltre il valore di 10. Adesso vi faccio vedere un altro prodotto per farvi capire la differenza. Ovviamente questo per ogni categoria, ragazzi. Qui possiamo selezionare qualsiasi categoria, anche se le migliori, vi ricordo, sono salute, bellezza, animali, bambini e direi per quanto riguarda dropshipping, home, anche ottima. Quindi se non sapete cosa vendere, iniziate da queste 5 categorie che sono evergreen, diciamo. Quindi sono le più forti. Vedete infatti qui addirittura 9, quindi è molto meno venduto questo prodotto rispetto a questo. Vedete che differenza, 99, 10 volte di più. Soprattutto per gli ultimi 30 giorni. Ora ragazzi, questa modalità è la modalità compresa nei 29€ mi pare. Mentre la modalità completamente automatica, quindi attraverso il AI, quindi l'intelligenza artificiale, che è veramente la svolta di questo Scrap Wave, oltre che tutta l'analisi che fai in automatico, è praticamente il Top Selling. In maniera completamente automatica andrai a cliccare su Top Selling e, in base al periodo di tempo, alla categoria, andremo a mettere in questo caso anche Pet, Marketplace Aliexpress, selezionati per i Best Seller, 30 giorni, ci andrà a ricercare praticamente i migliori Best Seller, senza addirittura fare questa ricerca, che comunque, come vi ho fatto vedere, è molto semplice, ma ci facilita ancora di più la vita facendo tutto in automatico. Quindi l'intelligenza artificiale di questo software andrà a calcolare esattamente quali sono i migliori prodotti vincenti di quella categoria specifica che andrete a selezionare, in base al Marketplace Aliexpress, in questo caso, o Amazon, qualsiasi sia la vostra scelta, Best Seller, migliori venduti, quindi più venduti, eccolo qui. E subito ci dà il risultato. Ultimi 30 giorni, venduti 3.000, 3.000, questo è lo stesso prodotto, andiamo a vedere le statistiche, probabilmente questo, un centesimo, non è reale, infatti andiamo a vedere in questo caso, infatti sono 3-4 euro, ok? Però ottimo prodotto che risolve un problema per quanto riguarda gli animali, toglie praticamente i peli, cleaning, pulisce il pello del gatto, specie di pettine elettronico per gatti, ok? 154 di score, altissimo, ancora più alto di quell'altro, vedete come, anche in questo caso, le vendite dai average, quindi il valore, gli ordini medi degli ultimi 30 giorni, sono inferiori agli ultimi 7 giorni, che sono inferiori o uguali, anzi, a today, quindi oggi. In questo caso, ragazzi, sappiamo che è un altro winning, quindi andiamo a vedere orders, come salgono, vedete come si sta impennando, le recensioni, stessa cosa, quindi sappiamo che sono reali, l'unica cosa che dobbiamo fare, poi, è iniziare a vendere questo prodotto, quindi ragazzi, se non sapete cosa vendere, se non avete idea di cosa vendere, selezionate un prodotto vincente, ti ricordo brevemente le categorie principali in dropshipping, salute, benessere, fitness, bambini, animali, comunque, prodotti che risolvono un problema alle persone, focalizzatevi sempre su quello, perché è quello che fa vendere, trovate un prodotto che risolve un problema alle persone, e semplicemente glielo ponete davanti gli occhi, attraverso i social media, quindi non fate le cose a caso, noi siamo qui per aiutarvi, per qualsiasi tipo di domanda, rimaniamo a disposizione, ricordatevi di accedere a opensourcebusiness.it, trovate tutti i link in descrizione, e soprattutto di iniziare ad utilizzare Scrapwave, per la ricerca dei vostri prodotti dropshipping, per veramente fare il salto di qualità, con il vostro business dropshipping, a partire da subito ragazzi, iniziate gratuitamente, poi avanzate con il piano da 29, e successivamente con il piano relativo all'intelligenza artificiale, che è veramente la svolta dropshipping, praticamente ragazzi, fa tutto il lavoro lui, in automatico, statisticamente, quindi non ci possono essere errori, perché è un dato matematico, derivante da Aliexpress, Amazon, quindi dai maggiori marketplace mondiali, quindi non hai più scuse per iniziare, fallo subito e noi ci vediamo al prossimo video.